che siete ancora numerosi come l'altra volta quindi interessati no all'argomento in prima di dare la parola il relatore di oggi voglio fare solamente pochi minuti il punto su quello che abbiamo discusso la volta scorsa noi parliamo di integratori alimentari abbiamo parlato anche di nutraceutici nutrizione e farmaceutica oggi poi abbiamo qui anche l'esperto il professor Donegani che ci parlerà della parte alimentazione perché abbiamo parlato finora soprattutto di prodotti ho fatto una distinzione chiara che non sono farmaci ma sono prodotti salutistici di integratori nutriaceutici alcuni di questi abbiamo visto una volta scorsa possono essere integratori alimentari ma anche farmaci no il professor Donegani aveva portato l'esempio della valeriana del riperico valeriana dei disturbi del sonno riperico disturbi del rumore quindi a seconda della dose alcuni possono essere integratori alcuni a dose più alte anche diventare dei farmaci abbiamo detto che sono importanti anche gli integratori in soprattutto in quelle situazioni di sottosoglia no in cui non devono essere utilizzati per curare delle patologie ma possono essere utili nella prevenzione di alcuni disturbi la volta scorsa parlavamo di disturbi del sonno sonno veglia ansia stress oggi parliamo di disturbi cognitivi in cioè in memoria apprendimento in abbiamo sottolineato l'importanza della tra cervello rapporto tra intestino e cervello no in microbiota quindi l'alimentazione anche ecco perché dopo avremo il professor Donegani che ci parlerà soprattutto della parte quindi alimentazione e cervello questi sono gli alimenti che possono essere utili no quindi soprattutto per un invecchiamento fisiologico abbiamo detto che comunque questi prodotti devono essere assunti mai fare fai da sé no assunti dietro anche chiedendo al medico il medico di famiglia o al farmacista anche se per caso possono avere delle interazioni con prodotti con i farmaci tradizionali perché in abbiamo visto anche l'altra volta che alcuni di questi prodotti agiscono su degli enzimi del fegato che in possono inibirli o attivarli quindi possono se uno prende altri farmaci questo farmaco se non viene più biotrasformato per essere eliminato perché il suo enzimo evocato aumenta in concentrazione nell'organismo e possono venire fuori degli effetti colaterali indesiderati se invece prendiamo un integratore che invece induce cioè aumenta l'attività di sintesi questi enzimi lo distrugge più velocemente diventa inattivo quindi abbiamo visto l'importanza quindi dell'interazione tra integratori e farmaci abbiamo detto che quindi sono utili in alcune situazioni poi ovviamente oltre noi ci stiamo concentrando anche oggi che ci sarà il professor San Giovanni su sostanze di origine vegetale no che sono quelli che si trovano in farmacia poi però ovviamente se ci sono delle carenze vitaminiche o bisogna prendere le vitamine no poi in altre situazioni abbiamo visto un acido folico come importante per la spina bifida qui siamo l'ambiente in cui viene spesso utilizzato abbiamo visto che se si prendono dei antibiotici che possono distruggere una flora intestinale cioè microbiota una volta si parlava di flora intestinale oggi parliamo di microbiota ma quindi in alcune situazioni sono fondamentali in l'assunzione di questi farmaci quindi abbiamo stabilito tutti questi punti che c'è tutta una normativa e anche europea perché oggi quando parliamo di queste sostanze che agiscono sulla memoria sopprendimento vuol dire che vengono assunte ma devono arrivare quindi ad agire nel cervello quindi non essere assunte nell'intestino quindi benessere dell'intestino vanno nel sangue arrivano poi c'è una barriera emetoencefarica devono superare anche quella barriera quindi alla fine sono come sentiremo anche da San Giovanni sono dei prodotti in cui c'è tutto uno studio sia di base anche preclinico e clinico per dimostrare che queste sono sostanze che agiscono quindi hanno un effetto non omeopatico ma hanno un effetto in diciamo funzionare non diciamo in alcuni casi anche farmacologico va bene questo è gli spunti che sono usciti l'altra volta parlando soprattutto di sonno stress e depressione oggi invece andiamo appunto sui disturbi cognitivi e abbiamo come prima relatrice la dottoressa Senito Manuela che è una neuropsicologa dell'università di Pavia la quale appunto ci parlerà su una difficoltà di memoria e concentrazione mi devo preoccupare no? e in siccome anche invecchiando no? come sottoscritto no? perché ormai sono già a una certa età a volte non ricordiamo dei nomi no? lei è giovane quindi non ha questi problemi però qualcosa anche non solo perché si invecchia ma anche quindi è utile mettere semplicemente l'influzione ci farà anche dei test giusto? e quindi in modo da vedere se a che punto siamo con il nostro benessere cerebrale prego dottoressa grazie mille per l'introduzione sì la collega Simeoni qui seduta abbassa un po' la media dell'età buongiorno allora forse posso dire solo un attimo una parola noi proveniamo dal centro di neuropsicologia cognitiva che è qui al Niguarda nel padiglione 16 e siamo anche afferenti all'università di Pavia noi siamo anche ricercatori del dipartimento di scienze del sistema nervoso del comportamento frasi che si sentono spesso dal neuropsicologo ogni tanto dimentico le cose soprattutto fatti recenti oppure ho difficoltà a concentrarmi non riesco più a svolgere alcune delle normali attività quotidiane mi presentano qualcuno non ne ricordo subito il nome non ne memorizzo il nome e così via e di solito il neuropsicologo risponde ma è particolarmente sotto stress oppure quando cerca di fare qualcosa ha delle distrazioni intorno oppure si isola e quindi facendo anche peggio perché teme che gli altri si accorgano che ricorda male le cose chiaramente queste non sono domande che il neuropsicologo fa per sminuire le vostre preoccupazioni ma perché queste sono il fatto di dimenticare e di iniziare a dimenticare un po' più spesso le cose è normale è normale perché fa parte di quello che noi chiamiamo invecchiamento fisiologico quindi col passare degli anni le nostre funzioni cognitive che siano la memoria il linguaggio e così via cambiano e questo perché normalmente noi nasciamo con il nostro bagaglio di neuroni e però poi con il passare degli anni perdiamo questi neuroni quindi è totalmente normale iniziare ad avere delle difficoltà nello specifico qui memoria, concentrazione e di solito invece ad esempio la personalità resta stabile ovviamente voi vi accorgete di questi cambiamenti magari avete anche delle reazioni emotive nei confronti di questi cambiamenti però se si tratta di una situazione normale non ci sarebbe da preoccuparsi vi dico solo che questo è molto importante anche dal nostro punto di vista di studiosi perché l'Italia la popolazione italiana è particolare negli ultimi 50 anni è stata quella che ha visto il più rapido invecchiamento chiaramente questo perché nascono meno bambini ma allo stesso tempo sono migliorate le nostre condizioni di vita ci curiamo di più e quindi la nostra popolazione invecchia addirittura si stima che nel 2050 circa il 40% della popolazione sarà ultra 65enne e questo si contrappone all'invecchiamento patologico di cui oggi noi non parleremo vi menziono solo qui che l'invecchiamento patologico invece che è quindi quello che nel nostro caso della memoria porta poi a una demenza ma qui si tratta di funzioni cognitive che sono compromesse quindi la persona inizia a perdere la propria autonomia ad avere difficoltà relazionali che di solito queste non dovrebbero essere invece la nostra preoccupazione se l'invecchiamento è fisiologico e i disturbi di memoria sono normali esiste poi anche una condizione intermedia la menziono qui che noi chiamiamo mild cognitive impairment semplicemente una condizione intermedia tra l'invecchiamento fisiologico e quello patologico la persona ha delle difficoltà in più rispetto a quelle che ci si aspetterebbe dalla sua età eccetera però la persona comunque ha la possibilità riesce a svolgere le sue funzioni la sua quotidianità è una condizione però progressiva quindi va monitorata e quindi va attenzionata dal neuropsicologo che cosa dobbiamo fare? sicuramente prestare attenzione quando abbiamo queste difficoltà quindi non ricordiamo le cose non riusciamo a fare qualcosa prestare attenzione possibilmente anche con l'aiuto dei familiari o comunque con l'aiuto delle persone che ci circondano perché ci vedono tutti i giorni hanno esperienza di noi sanno effettivamente perché magari qualcuno può anche dire non so mia madre potrebbe dirmi ma tu sei sempre stata smemorata quindi il fatto che tu adesso non ricordi questa cosa non è poi così particolare e di nuovo dal nostro punto di vista dobbiamo attenzionare l'invecchiamento perché dobbiamo prenderci cura della memoria e delle altre funzioni cognitive di chi verrà dopo molto brevemente non so se abbiate mai sentito il concetto di riserva cognitiva noi tutti siamo diversi cognitivamente siamo diversi anche per quanto riguarda le nostre strutture cerebrali ma questo è anche dovuto a queste differenze individuali ci fanno rispondere meglio o comunque in modo diverso nei confronti ad esempio di un evento stressante o dei confronti di un danno cerebrale ad esempio ci sono persone che reagiscono che riportano disturbi diversi in seguito a un trauma cranico c'è chi reagisce meglio chi reagisce peggio e una delle cose che aiuta è questa riserva cognitiva ora mi chiederete cos'è cioè nel pratico questa riserva cognitiva ad esempio l'istruzione nei primi anni di vita quindi chi ha studiato di più ha una maggiore riserva cognitiva che può aiutare in futuro chiaramente ora adesso voi mi direte che non è proprio così modificabile l'istruzione nei primi anni di vita ma una cosa che potete fare è partecipare a attività cognitivamente stimolanti già il fatto che siete voi che siete qui stasera state facendo un'attività state partecipando a un'attività cognitivamente stimolante quindi questo è già un gran passo avanti butto qui un'informazione che si stima che la demenza ad Alzheimer rappresenta che rappresenta si stima che rappresenta il 54% di tutte le demenze in Europa e con una grande percentuale negli ultra 65 anni quindi ancora di più importante occuparsi della nostra riserva cognitiva ho trovato sul sito dell'ospedale Niguarda c'è una pagina il cui titolo è proprio un piano pensionistico per la mente quindi è una risorsa questa risorsa questa risorsa cognitiva che va programmata ora partiamo anche già da oggi programmiamola facciamo delle cose più svolgiamo comportamenti virtuosi più staremo meglio in futuro e diciamo creeremo questo bonus che ci aiuterà nel nostro invecchiamento fisiologico avrete sicuramente sentito parlare dei diecimila passi quindi muoversi di più fare attività fisica l'alimentazione sana di cui sentirete poi dopo se c'è bisogno o meno di un'integrazione vita sociale attiva e lo state facendo sono un tonico eccezionale soprattutto per la nostra memoria io sono particolarmente appassionata di fare i cruciverba dell'enigmistica sembrerà banale sembrerà banale però mantiene in attività cioè voi in quel momento esercitate le vostre funzioni cognitive che siano la memoria che sia il linguaggio e chiaramente sempre con un occhio ai più giovani insomma iniziano a insegnare anche ai più giovani a fare determinate cose anche apprendere nuove abilità non possiamo modificare il nostro grado di istruzione appreso durante l'infanzia ma possiamo imparare nuove cose ora c'è l'università della terza età possiamo banalmente scaricare un'app sullo smartphone e imparare una nuova lingua una nuova un nuovo hobby anche questo è fondamentale è importante è quello che noi chiamiamo poi agiamo sulla neuroplasticità quindi il nostro cervello è plastico alle nuove esperienze ai nuovi apprendimenti e memoria e concentrazione quindi ci dicono come sta funzionando il nostro cervello entrambe vi servono quotidianamente per svolgere le vostre attività quotidiane dalla più automatica quella in cui dovete pensare di più ragionare di più e una delle strategie che secondo noi è la migliore è proprio conoscere la memoria cioè se voi sapete come funziona la memoria anche in maniera grossolana vi può aiutare a creare voi stessi delle strategie per poter memorizzare meglio ricordare meglio e vi do una definizione classica perché da neuropsicologa ve la devo dare la memoria e la capacità di acquisire recuperare e usare nuove conoscenze informazioni e abilità e poi anche la capacità di riconoscere che una determinata esperienza è avvenuta nel passato in un determinato luogo e in un determinato tempo ora come vedete questa è in realtà un'immagine molto vecchia il che già dovrebbe far capire che ora noi sappiamo ancora di più della memoria quindi ancora più complesso di questo grafico che pongo qui quello che oggi andiamo a vedere vi darò una definizione di memoria a breve termine faremo qualche test e poi guarderemo la memoria a lungo termine episodica e semantica ma vi spiego tutto nelle prossime slide partiamo con la prima cosa io adesso vi do soltanto una consegna semplicissima e poi quando avrete fatto saranno passati questi dieci secondi io proseguirò con le mie slide allora vi chiedo di prendervi dieci secondi li cronometro io per memorizzare sei oggetti che vi compaiono sullo schermo sono delle immagini va bene via ok dieci secondi sono passati io proseguo come vi ho promesso avremmo visto cosa è la memoria in questo caso a breve termine quindi noi facciamo queste due grandi distinzioni a breve termine a lungo termine a breve termine si tratta di un processamento dell'informazione quindi conscio noi siamo consapevoli e ha una capacità limitata in neuropsicologia non chiamiamo il magico numero sette più o meno due perché se io mostro questa lista questa stringa di cifre tendenzialmente la maggior parte delle persone tenderà a ricordare e per circa venti secondi sette item oppure cinque o nove insomma la nostra memoria più o meno ruota intorno a questi numeri ne ricorderò sette cinque nove il massimo e chiaramente l'uso della ripetizione favorisce il mantenimento dell'informazione a breve termine ora se ricordate il compito che vi ho fatto fare prima io vi ho soltanto detto di memorizzare queste immagini ma non vi ho detto che ve le avrei richieste non vi ho detto provate a ricordarle quindi magari qualcuno di voi spontaneamente ha iniziato a non so a riverberare a ripeterle nella propria mente una signora mi dice di sì e quindi molto probabilmente la signora ricorderà meglio degli altri i sei oggetti perché più noi le ripetiamo più le resteranno in memoria ovviamente non volevo ingannarvi ma volevo farvi vedere che se voi quando imparate nuove informazioni prestate attenzione ma soprattutto utilizzate strategie come la ripetizione tenderete a ricordare meglio quelle informazioni quindi quali oggetti di questi avete visto prima adesso ne mostrerò uno alla volta e mi direte di sì no? insomma anche solo per voi stessi allora questa è la prima vedo se io voglio solo sapere se l'avete vista solo se l'avete vista non la posizione no no scusate solo se l'avete vista compaiono in modo mescolati quindi dovete dire solo sì o no questa sento un sì unanime questa ecco sento dei sì e dei no esatto vabbè allora siete attentissimi vabbè allora vado via non c'è bisogno siete un gruppo atipico di andiamo via va bene ok allora questi sono gli oggetti che vi ho mostrato inizialmente voi in realtà siete stati più che bravi più che bravi perché scusate perché ve ne ho cambiati tre però le avete riconosciuti tutti quindi la Biro non è non è stilo la penna e la finestra quindi siete stati bravissimi consapevolmente imparare magari a fare delle ripetizioni ma anche cercare delle delle caratteristiche degli oggetti no perché molti di voi avranno ricordato sì la finestra però era marrone quindi un elemento in più vi aiuterà a ricordarla meglio in futuro e quindi andiamo avanti e passiamo invece alla memoria a lungo termine quindi questa è quella che dura di più quando voi recuperate i vostri ricordi dalla memoria si tratta diciamo l'esempio quando voi ricordate eventi passati e di solito la distinguiamo in due principali categorie diciamo quella semantica che è il magazzino delle nostre conoscenze ora è un termine un po' obsoleto magazzino però rende l'idea è lì che mettiamo tutto quello che noi conosciamo sul mondo quindi adesso vi chiedo qual è la capitale d'Italia bene conoscenza degli oggetti i cespugli di rose hanno le spine tutti dicono sì quanti centimetri ci sono in un metro bene quindi questa è conoscenza del linguaggio poi è chiaro che se c'è qualcuno di voi che è super esperto di giardinaggio mi potrebbe dire beh i cespugli di rose sì di solito ecco di solito hanno le spine ma magari c'è una talea è stata fatta e quindi e altro altra prova in questo caso siamo sempre nel tema della memoria semantica quindi conoscenza delle cose degli oggetti del linguaggio vi farò tre domande rispondete il più velocemente possibile la risposta è sì no ok sono tre domande la trota è un pesce l'orso è un pesce la balena è un pesce eh ho sentito un po' di ho sentito un po' di allora la balena è un cetaceo quindi è un mammifero sì era ovviamente messa come terza per un motivo questo per dimostrarvi che le nostre conoscenze sono organizzate più o meno in questo modo cioè per categorie io adesso vi ho fatto degli esempi con degli animali quindi abbiamo la categoria animale poi abbiamo la categoria pesce che è una sottocategoria degli animali ma a loro volta abbiamo visto che la balena sì vive nel mare come gli altri pesci ma rientra in una categoria che è quella dei mammiferi quindi ehm tendenzialmente le nostre conoscenze semantiche sono organizzate così si fa sempre più nello specifico e più andiamo nel profondo più dobbiamo andare a scavare le nostre conoscenze per poter rispondere correttamente anche questo è importante da sapere perché vi può aiutare nel futuro nel memorizzare le cose di dare un dettaglio in più all'informazione che state memorizzando perché vi può aiutare poi nel recupero e ok altra altra caratteristica sempre la memoria semantica conoscenza del mondo delle cose anche degli oggetti ad esempio come sono fatti e a cosa servono vi mostro adesso è sempre però è sempre così facile riconoscere gli oggetti che già conosciamo vi mostro un'immagine ditemi quello che vedete o leggete quello che vedete esatto allora diciamo che ho ho risposte medie c'è chi dice ABC chi dice 12 13 14 chiaramente possono essere entrambe quindi questo dipende molto dalla vostra predisposizione diciamo predisposizione percettiva ma non servono i te le parolone se siete persone più non so più abituate magari alla lettura no allora ABC viene più spontaneo oppure 12 13 14 se siete abituati a lavorare con i numeri quindi questo non vuol dire che metà di voi hanno sbagliato prego anche ma non esiste tutto tutto va bene perché non c'è una risposta giusto sbagliata in questo caso ovviamente era fatto apposta per per avere metà e metà ma questo per dire che anche quando vi sbagliate a recuperare un'informazione dalla memoria o magari non ricordate qualcosa ponete attenzione magari in quel momento siete avete una certa predisposizione a ricordare qualcosa meglio a non ricordare qualcosa questo oggetto lo ce l'ho cercato cercavo una cosa su internet su google qualche tempo fa secondo voi è un annaffiatoio o una teiera allora sento risposte a metà in realtà questo è un annaffiatoio e io ho fatto io ho fatto fatica a riconoscerlo cercavo degli oggetti mi è comparso questo ma è una teiera no è un annaffiatoio quindi anche lì ci sono anche oggetti nuovi che magari non abbiamo mai visto e quindi facciamo fatica a categorizzarli questo non vuol dire che ho un disturbo di riconoscimento ho un disturbo di memoria semplicemente una cosa nuova che non conosco e quindi come dicevo prontezza percettiva cosa siamo più predisposti alle nostre aspettative se sono su google sto cercando informazioni di giardinaggio è chiaro che tenderò molto più facilmente a dire questo è un annaffiatoio non una teiera alle mie emozioni quindi in questo momento se sono più stressato se sono più sensibile a un determinato argomento tenderò a essere più pronta a riconoscere delle cose ma non altre la motivazione poi ovviamente la cultura che però è più ovviamente non è situazionale è più ma che è un design progettato beh sì ma magari l'intento era proprio quello di creare un oggetto che non potesse che non fosse più banalmente categorizzabile come un annaffiatoio io lo utilizzerei come una teiera sinceramente però giuro giuro che sì esatto se poi si bada più al dettaglio si capisce che in realtà è più un annaffiatoio non avrebbe gran funzione di teiera e restando sempre in questa memoria a lungo termine quindi memoria che dura cioè è quella per cui io posso andare indietro e ricordare quello che ho fatto da bambina quel determinato giorno questa è sempre una memoria a lungo termine ma la chiamiamo episodica perché sono esperienze un ricordo di specifiche esperienze personali in un particolare momento e luogo poiché ci sono ricordi che sono solo miei possono essere condivisi con qualcuno ma sono ricordi miei che non sono anche i vostri e viceversa e la chiamiamo anche memoria autobiografica se vi ricordate a scrivere un'autobiografia ricordate anche che questo è quel tipo di memoria se io vi chiedessi cosa avete mangiato ieri sera ognuno insomma anche se non lo ricordate insomma il fatto stesso di sapere cosa è un ricordo autobiografico ma io per esempio non lo ricordo quando ho mangiato ieri sera ok no in realtà no io ci devo pensare un po' no perché anche io ci dovrei pensare a cosa ho mangiato ieri sera però sono arrivata a casa molto stanca dopo una lunga giornata di lavoro avevo guidato tante ore e anche oggi è stata una giornata altrettanto può essere anche una giornata noiosa ma ha maggior ragione esatto magari ho mangiato di fretta perché dopo dovevo fare mille cose in casa la lavatrice stendere stirare preparare la spazzatura e non ho prestato attenzione a quello che mangiavo anche se l'ho cucinato io quindi dovrei saperlo esatto magari si magari ha mangiato quella volta la pizza che le piace tanto lo ricorderà sempre esatto ma non è detto non è detto perché comunque la memoria recente è sempre quella un po' più birichina un po' più traballante perché non ha avuto il tempo di consolidarsi lei non è che tutti i giorni scrive un diario su cosa ha mangiato il giorno prima e il giorno dopo lo va a ripassare se magari questa mattina ha raccontato alla sua amica ah ieri ho mangiato questo ha rinfrescato la sua memoria ha ripetuto ma se non ci ha più pensato non l'ha più nominato anch'io faccio fatica esatto quindi altra domanda dove avete trascorso le ultime vacanze o il vostro ultimo periodo di riposo benissimo e vi ricordate quando avete imparato ad andare in bicicletta bene almeno io lo ricordo perché eravate magari era così piccola che non ha avuto la possibilità di codificare quel non ha avuto la possibilità di codificare quell'informazione c'è chi se ne ricorda perché magari ha imparato più tardi quindi anche questo e poi ho un'ultima domanda cosa vi ricorda l'undici settembre cosa stavate facendo no in generale l'undici settembre ma anche ma anche la domanda è ambigua quindi la risposta la risposta è giusta allora questa domanda di nuovo lasciata per ultima perché sì cosa stavate facendo quel famoso sì non ho scritto il duemila è mea colpa colpa mia informazione informazione incompleta però le torri gemelle come potete vedere questa domanda in alcune persone ha subito fatto accendere il ricordo che però non è episodico perché le torri gemelle ormai sono diventate una conoscenza semantica però c'è chi poi ha ricordato l'associazione però ero seduta davanti e in questo caso episodica quindi la stessa lo stesso evento che ha un connotato tanto personale quanto di conoscenza generale ok salto salto semplicemente ci sono tanti l'ho già detto oggi ci sono tanti processi che riguardano la memoria non è solo il ricordare un evento ma è anche come lo acquisiamo come lo codifichiamo come lo rendiamo stabile come lo manteniamo in memoria quindi ci sono tanti processi su cui dobbiamo lavorare su cui che possono essere selettivamente compromessi o meno o che che vi possono portare delle difficoltà perché qui non parliamo di compromissione salto salto questa questa slide perché adesso voglio fare subito quest'altro quest'altro piccolo test qui vi do 15 secondi e compariranno delle parole in questo caso sono parole scritte in stampatello cercate di memorizzarne quante più possibile sono tante vi do però un suggerimento prima di provare a memorizzarle guardatele un attimo prendetevi qualche secondo per guardarle poi partite provate a memorizzarle io conto via ups scusate ok allora se ricordate prima la storia del numero magico questi erano 14 quindi avete avuto poco tempo per poterle magari qualcuno ci riesce però c'è un motivo per cui vi ho detto datevi dategli prima uno sguardo qualcuno di voi ha notato qualcosa che ha potuto aiutarlo va bene e niente io vado a casa perché è già stato detto tutto esatto quindi ad esempio c'è chi di voi è più portato per le associazioni linguistiche gatto patto fanno rima lo ricordo subito ma c'è chi magari ha detto ha gatto cane ricordo sicuramente e c'è chi ha detto ratto ratto le ha entrambe è anche un animale ma fa anche rima la memoria associativa la memoria associativa quindi strategia per voi per poter provare a memorizzare meglio le cose in futuro ecco la signora le ricorda tutti e 14 abbiamo sfatato il numero magico va bene allora chiudiamo qua e noi andiamo a casa e la porta poi chiaramente c'è chi io sono ad esempio sono un po' più visiva tendo a ricordare la posizione sullo schermo delle cose quindi io ricordo che in basso a destra c'è il quadro e non ho bisogno di associarlo a nulla quindi poi c'era il gradino con la scala ma anche con il lavandino perché fanno rima sono tutte e tre cose che stanno nella casa altra associazione l'albero con il ramo e il ladro con il quadro fanno sia rima ma il ladro può anche rubare il quadro quindi quindi siete stati bravissimi e ricordare tutte le cose è impossibile no 15 secondi forse sono pochi ma con le dovute strategie si possono ricordare quindi processo omnestico quindi questo apprendimento questo ricordare acquisire poi recuperare è qualcosa di dinamico noi dobbiamo fare il più possibile per poter acquisire bene codificare bene e recuperare bene l'ho detto tante volte durante questa presentazione per memorizzare bene le cose bisogna anche prestare attenzione quindi vi lascio con un ultimo test allora è un video la consegna in inglese quindi ve la dico prima in italiano in questo video vedrete dei ragazzi lanciarsi la palla ci sono due gruppi di ragazzi alcuni hanno la maglietta bianca altri hanno la maglietta nera i ragazzi con la maglia bianca si lanciano la palla tra di loro i ragazzi con la maglietta nera si lanciano la palla tra di loro sono mescolati il vostro compito prestate attenzione è di contare quanti passaggi con la palla fanno i ragazzi vestiti di bianco quindi vedrete tutti questi ragazzi focalizzatevi su quelli vestiti di bianco contate non preoccupatevi se perdete uno o due passaggi l'importante è che state lì concentrati li contate ok ora io non so se dovrebbe partire se non c'è l'audio non non importa vediamo se parte ecco quindi contate quante volte i giocavi le persone vestite di bianco si lanciano la palla ok ok va bene io non la ricordo la risposta e ho difficoltà di memoria allora era quindici era quindici però attenzione ho un'altra domanda ho un'altra domanda avete visto il gorilla ok molti sì molti lo hanno visto la signora con la maglia fuc si è assunta comunque viene a lavorare al centro di neuropsicologia da domani chiaramente non abbiamo creato noi questo test però insomma è molto famoso e vi dimostra che se siete molto focalizzati su un compito grossi distrattori non li notate a maggior ragione pensate al contrario se vi distraete se avete rumori intorno ma state cercando di memorizzare qualcosa e forse non è la situazione ideale io spero di quindi questa era la slide conclusiva per dire che ci sono delle cose su cui noi possiamo agire altre su cui possiamo agire meno chiaramente nella vita avanzata possiamo agire preoccuparci se una persona soffre di depressione magari evitare di fumare fare più attività fisica l'inquinamento purtroppo non è la nostra discrezione occuparci del nostro stato di salute diabete questi sono sono tutti fattori su cui se noi agiamo facciamo del bene insomma al nostro invecchiamento e anche in questo caso di conseguenza la nostra memoria e nuovamente vi ripeto veniamo dal centro di neuropsicologia cognitiva qui al Niguarda siamo al padiglione 16 la professoressa Bottini è la responsabile ci sono un team di psicologi e neuropsicologi due neurologi eh degli specializzanti e ci sono poi figure universitarie come la mia come quella della collega eh in questo caso noi studiamo facciamo degli studi eh su sia su pazienti ma anche su su persone sane ehm e quindi tra l'altro se volete partecipare a questi a questi studi poi possiamo darvi anche delle informazioni come volontari e vi ringrazio grazie mille grazie se avete delle domande in eh possiamo già iniziare se no poi facciamo poi alla fine comunque importante l'ultima diapositiva no? I fattori di rischio no? Cioè quelli che bisogna evitare in eh quindi ecco anche quindi benessere no? Eh come dicevamo anche altre volte no? rumore no? Perché è una situazione di tristezza ovvio che il cervello ne soffre pure di stress ansia no? Quindi senza arrivare a depressione oppure ma già in quelle situazioni già in poi ovviamente eh alcol perché ovviamente l'alcol a nebbia no? I neuroni si addormentano no? E poi le sostanze neurotossiche il fumo no? In eh poi sentiremo anche l'alimentazione perché se si mangiano troppi grassi no? Poi ce lo dirà Antonio Gani non va bene no? Magari poi magari è meglio la dieta mediterranea cosa dice? Vedremo ecco quindi eh stili di vita no? Stili di vita sono fondamentali perché non dimentichiamo che noi siamo programmati per vivere fino a centovent'anni. I nostri dal punto di vista genetico no? Noi possiamo vivere fino a centovent'anni però è chiaro che ci vuole anche la qualità della vita no? Perché è inutile vivere un go in una situazione di demenza o eccetera che poi uno non si rende conto no? Ma i familiari e persone che sono intorno sono ovviamente un grosso problema e anche per la società. Però gli studi eh dal punto di vista genetico in eh noi fino a centovent'anni un uomo potrebbe vivere però potrebbe cioè però siamo eh una qualità di vita quindi dal punto di vista biologico alimentare stili di vita psicologico fa parte di questo. Adesso allora senti a poi cento perché noi viviamo di più no? Ci ha detto dottore se viene se uno rispetto di duecento anni fa no? Ma anche sono del milaottocento la media a quarant'anni no? Più o meno. Adesso noi eh 80 anni le donne vivono di più perché come io dico sempre che noi eh maschietti siamo stressati dalle donne no? Quindi noi viviamo di meno. Una battuta ovviamente. In eh però perché sicuramente rispetto al milaottocento igiene no? Perché non dimentichiamo igiene in alimentazione e poi farmaci cioè ci sono dei farmaci salvavita no? Dei farmaci e gli antibiotici no? La penicillina nel mila novecentoquarantasette e prima di allora si moriva no? Per infezione. Cioè quindi sicuramente quindi la farmacologia, la farmacognosia di cui sentiremo adesso Enrico San Giovanni e poi tutti gli stili di vita ma anche quindi c'è noi siamo fatti la componente biologica e psicologica no? Quindi il nostro cervello è biologico no? Eh però riceve delle informazioni sia eh da punto di vista anche psicologico dall'ambiente quindi anche l'ambiente sicuramente se ci sono sostanze tossiche è ovvio che in eh noi respiriamo o ingeriamo e quindi quindi tutti questi fattori sono stati fondamentali e in eh per cui se si riesce a fare in modo che tutti questi fattori no? Riusciamo a fare in modo che siano di nostra utilità è che possiamo arrivare ad una vita che è programmata fino a certezza. Posso chiedere? Sì certo. probabilmente non ci ha prestato attenzione perché la richiesta della collega era ricordare l'identità cioè ricordatevi quali oggetti vi ho mostrato esatto appositamente non ha non ha posto l'attenzione sul colore sulla forma proprio perché volevamo un po' trarvi in inganno non può essere anche tante cose che non non ho fuori il fondo non ho una predisposizione faccio un esempio mio io come vedo una parola scritta in inglese io la scrivo come sento parlare un questo questo perché lei non non vive in un contesto in cui si parla inglese non lo esercita non lo utilizza non lo utilizza semplicemente anch'io sono molto più brava a leggere il tedesco ma nell'ascolto sono già due anni che non vivo più in Germania non 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 capisco più è semplicemente una mancanza di esercizio no ma guarda mi porto il mio personale cioè io quando ho avuto venti a realtà di ventisette ventotto anni dove sono laureato e avevo studiato inglese alle medie al liceo quindi io su una grammatica scrivere sapevo tutto ma quando sono arrivato a Washington del senso stato di quasi quattro anni cioè all'inizio io non capivo cosa mi diceva tanto noi dicevano per favore speak slowly no ma gli americani non in allora come anche una modalità che lei non aveva mai esercitato esatto una modalità perché in it a milano siamo andiamo dietro di qualche gusto non si parlava molto frequentemente inglese allora per cercare di memorizzare meglio guardavo la televisione cioè mi presentavano occhiali grassi no certo allora mi associavo in la parola con l'oggetto e quindi questo avevo ventisette ventotto anni ma mi ricordo di altre situazioni oggetti i nomi i nomi sono un dramma anche in persone che conosco ti sto parlando di questo da sempre diciamo negli ultimi dieci anni è aumentato è aumentato è aumentato in modo per cui per le frae per esempio cioè quando faccio capire foto tutti i vostri nomi vuol dire che genericamente più difficoltà a pescare quel tipo di informazione infatti la risposta a questa domanda in realtà in parte anche la risposta alla domanda della signora di prima nel senso che comunque tutti noi siamo diversi e abbiamo anche magari una predisposizione diversa a memorizzare certe informazioni l'ha detto anche la collega prima io sono più una persona visiva mi visualizzo le informazioni tra di voi ci saranno tante persone che fanno meno fatica a ricordare dov'era magari una cosa e invece se devono solo memorizzare magari la parola magari il nome fanno molta più fatica perché sono persone visive ci sono invece le persone verbali quindi quelle che si devono ripetere le cose che apprendono i nomi così al volo vi faccio un esempio proprio banale famiglia due fratelli io e mio fratello lui una persona squisitamente visiva ricorda esattamente la posizione di tutto anche se l'ha vista due secondi e poi non ci ha più prestato attenzione dice ah sì sì mi ricordo quella parola lì che però non mi ricordo che parola era era scritta in fondo a quella pagina evidenziata in blu io invece mi devo ripetere le cose 72 volte e sono una che elabora diciamo dal punto di vista verbale quindi anche è uno stile cognitivo no no è giusto per altre cose però uno stile di memoria non è verso ma quel tipo di materiale verbale se effettivamente è vero che guardare tanto la televisione poi c'è anche un problema mio in effetti scusate ma dipende cosa si guarda esatto esatto dipende cosa guarda se guarda un film se guarda un documentario un programma magari un dibattito ma che è noioso esatto ma poi dobbiamo andare avanti dobbiamo andare avanti va bene adesso abbiamo visto un inquadramento dal punto di vista psicologico grazie grazie ancora grazie a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti oré grazie a tutti